Una grande opportunità quella che sta avendo l'Aquila grazie alla realizzazione del 5G che permetterà alla città del capoluogo di essere una città all'avanguardia. L'Aquila quindi si affaccia ad una nuova era. Il 5G è veramente una grandissima opportunità che ha il nostro paese. È indubbio che è una tecnologia che rivoluzionerà il nostro futuro, il nostro modo di vivere, di spostarsi, di lavorare, di curarsi. E allora è chiaro che la sfida che abbiamo avanti è sui servizi, non solamente su un aspetto tecnologico, sulla rete tecnologica 5G, ma sulla capacità di non solo essere consumatori di servizi, che ci porterà ad essere più competitivi, ma anche ad essere in grado di progettarli, realizzarli, esportarli questi servizi. Questo vuol dire cogliere veramente il futuro che abbiamo davanti al 5G. Anche la BCC Roma ha voluto ribadire e contribuire a questo importante progetto che cambierà e creerà nuovi modelli di business e opportunità. Questa del 5G ci sembrava un'opportunità da non perdere, quindi vogliamo capire ed esplorare gli ambiti di applicazione di questa tecnologia e capire bene quali sono i margini di crescita professionale per tutti i giovani dell'Aquila, dell'Aquilano e della Marsica intera. Nel convegno dei giovani soci BCC Roma erano presenti molti ragazzi. Si è data molta importanza anche al progetto Resto al Sud, che sarà una grande opportunità di crescita per tutti i giovani. Resto al Sud è un'occasione per i giovani, ma è un'occasione per noi per rimetterci in discussione e aiutare veramente la ripartenza. Quindi benvengano queste iniziative, la parte dei giovani è unita all'esperienza di chi comunque continua a credere che il paese possa rinascere, e quindi ci deve portare veramente verso la nuova speranza. Un convegno molto partecipato che ha potuto dare grandi spunti di crescita grazie anche agli innumerevoli interventi di grande spessore. In tal senso la BCC Roma è da sempre stata vicina alla città dell'Aquila per contribuire alla crescita e creare opportunità al fine di offrire sempre più servizi utili al territorio. Qualche anno fa, quando ci fu questo tremendo evento del terremoto, nacque un'importante iniziativa finanziata dal Medio Credito Centrale per finanziare i piccoli. Bene, noi ci mettiamo in discussione, studiamo, abbiamo avviato tante piccole iniziative e poi alcune norme di legge mutarono anche per le grandi imprese. Quindi ripartì con lo stesso modello il metodo di finanziare anche le imprese con le garanzie pubbliche. Grazie. Grazie a tutti.